Nel ballo tutti quanti insieme di salutare alcuni ragazzi che si sono fatti veramente i chilometri per essere qua. Vorrei un vostro applauso fortissimo per i ragazzi di Cuore Nero di Milano che non molto tempo fa hanno subito una migliacca aggressione con delle bombe ad alto potenziale che gli hanno spasciato le mura del loro centro ma che come disse 60 anni fa Goebbels potrete spezzare le nostre mura ma i nostri cuori non li spezzerete mai. Questo disse ai bombardamenti americani e inglesi su Berlino Joseph Goebbels, ministro della propaganda e questo noi diciamo oggi ai migliacchi compagni che non hanno perso la metodologia agiscono di notte nell'ombra e pensano di fermarci con questi mili attentati. Vi ricordo che Cuore Nero, e questo sia un esempio per tutti, ha saputo risorgere da quell'attentato hanno fatto migliaia di euro di danni ma è scattata una molla di solidarietà, di muta collaborazione tra camerati ed in pochissimi giorni Cuore Nero grazie alla solidarietà militante di ogni camerato in tutta Italia con piccoli versamenti è riuscito ad accogliere 12 mila euro ed oggi Cuore Nero è più forte di prima e questo sia un monito per ogni compagno, per qualsiasi rilascio che pensa di fermare le nostre azioni con le bombe e con la miliattoria. Non ci sono riusciti 30 anni fa e non ci riusciranno oggi. Il mio abbraccio fortissimo va ai camerati di Milano così come va a Gianandrea, alla Felice di Firenze che sono presenti anche questa sera qui e che non mancano mai di darci il loro supporto, il loro apporto fortissimo è davvero encomiabile in tutti questi anni. Il mio abbraccio va alla Felice di Firenze e poi permettetemi un saluto particolare per Luca Diascoli che davvero conosco da oltre un decennio. abbiamo fatto davvero tante scappagnate in montagna davanti a un fuoco che oggi brucia ancora più di dieci anni fa perché quello è un fuoco sacro, è il fuoco di Olimpia è il fuoco delle nostre idee. Grazie a tutti per essere qua. Adesso parliamo tutti insieme questo sca. Vabbè ragazzi, sca da fascio è uno sca, è uno sca particolare, è uno sca da fascio. Vabbè ragazzi, sca da fascio è uno sca, è uno sca, è uno sca, è uno sca. voglio stare, e sai com'è qui tra bambini e sonde, cancello e una balena, ci sono uniti insieme, e la casale sempre più, e allora portati una bimba, ne sei più che puoi, e portati una guida entera come noi che era, 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 come noi Come noi Come noi Spera come voi Tutti i minuti trovano i miei fratelli Tutti sono cambiati, l'oro è sempre meglio Entra una bevota, una regata Corre via per un bene E anche questa serata si alzano i bicchieri per brindare E che soffi il cuore da chi ci vuole male E a noi piange per far tanto E se non c'è più birra, dai ombre Portati nel vino, portati nel vino Nero, 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 nero Corre via, nero, 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 Grazie!